E' possibile creare un mondo migliore? Se ne è discusso in un incontro di battito presso l'Arena Piemonte durante la prima giornata del 29esimo Salone Internazionale del Libro. Gli autori di narrativa fantastica presenti in sala, Giovanni Del Ponte, Fabio Geda, Marco Magnone e Andrea Malgeri, hanno tratto spunto dalle proprie opere per riflettere con gli studenti di tre scuole torinesi su come riimmaginare un mondo dove tutti gli esseri viventi abbiano diritto all'acqua, al cibo e un ambiente non inquinato.